E' stata inaugurata la nuova sede per il 118 di Sant'Agata Militello. Il personale del 118, dovendo lasciare il Palazzo Omni per fare posto al commissariato di Polizia Sant'Agatese, ha trovato alloggio nei locali della Casa di Riposo Giovanni Paolo II di Contrada Gaglio. Nei giorni scorsi, il sindaco Carmelo Sottile, con il vicisindaco Nino Testa e l'assessore Giuseppe Puleo, hanno fatto visita alla nuova postazione del servizio 118 di Sant'Agata Militello. Presenti nella nuova postazione, il direttore del distretto sanitario, dottoressa Rosalia Caranna, accompagnata dal tecnico geometra Salvatore Sidoti ed i responsabili della Casa Riposo Convenzionata, Papa Giovanni Paolo XXIII. Tra non molto tempo sarà attiva la rete infarto, che vedrà la postazione del 118 di Sant'Agata come centro pilota. Grazie alla sinergia tra Comune, Aspe e Casa di Riposo, si è raggiunto un obiettivo importante con il compiacimento ed il consenso di tutti gli operatori. Devo dire che siamo stati pronti e subito disponibili a mettere a disposizione del 118 i nostri locali, perché ritenavamo idoni e abbastanza confortevoli alcune stanze della nostra struttura, per dare decenza e decoro a quello che è un presidio territoriale d'emergenza relativamente importante per tutto il tessuto nebrodeo e soprattutto del tessuto sant'agatese. Finalmente abbiamo trovato dopo una travagliata ricerca un posto idoneo per ospitare quella che è la postazione del 118 di Sant'Agata, che prima era allocata in una sede non idonea, compatibile con quelle che erano le esigenze degli stessi operatori. Per cui ora con l'occasione abbiamo avuto la possibilità di usufruire di locali di proprietà del Comune dati in gestione tramite convenzione alla Casa di Riposo di Contrada Gaglio, che proprio in questi giorni hanno manifestato la loro disponibilità a contribuire a mantenere questo servizio. Non interessa che chi lavora deve essere sereno perché deve affrontare con grande impegno un servizio così importante per la collettività e così proprio di emergenza, quindi deve essere pronto a qualsiasi intervento che necessita.